Nonostante la ricchezza e la notorietà, Kim Kardashian non è affatto felice. Il suo sogno più grande, infatti, è qualcosa che non si può acquistare. La compagna di Kanye West vorrebbe dare un fratellino alla piccola North. E dire che solo lo scorso anno dichiarava di non volere più bambini. La gravidanza è dolorosa, faccio fatica a camminare. Non riuscirò mai a portare a termine un'altra gravidanza dopo questa, basta, non voglio più avere figli. Secondo quanto riportato da TMZ, però, Kim Kardashian starebbe facendo il possibile per rimanere incinta, senza riuscirci. La donna, confidandosi con amici e familiari, ha svelato che insieme al compagno sta provando ad avere un altro bambino da nove mesi. Per il momento, però, ogni tentativo si è rivelato vano. Kim si è fatto visitare da alcuni specialisti, che le hanno comunicato che una nuova gravidanza sarà altamente improbabile. TMZ, inoltre, ha spiegato che la nascita di North West è stata un miracolo. Ben tre specialisti, infatti, l'avevano detto che non avrebbe potuto rimanere incinta. Con la nascita della piccola, Kim e Kanye hanno tirato un sospiro di sollievo, fiduciosi che un secondo bambino sarebbe stato più semplice da concepire. I dottori, però, hanno spiegato loro che le cose non stanno esattamente così. La Kardashian è disperata ma è pronta a seguire alla lettera le indicazioni dei medici. Infatti, ha già deciso di ridurre lo stress e di viaggiare il meno possibile. Immortalata Beverly Hills dopo la visita medica, è apparsa scura in volto mentre copriva gli occhi con dei grandi occhiali da sole. Non è detto, però, che non accada un altro miracolo. Chi se ne frega.